Ciao a tutti, sono Frasco, il maestro di Hive di cui non sapevi di aver bisogno. Vi svelo la soluzione al puzzle. Il bianco vince in due mosse, come la formica bianca si muove qui, crea una nuova connessione da alveare in questo gomito, in modo tale che la coccinella bianca possa fuggire e muoversi qui alla seconda mossa, e lei non ha modo di bloccarlo. Notare che muovere la cavalletta bianca qui dentro, purtroppo con l'idea di andare qui non funziona, perché la cavalletta nera è libera di muoversi e addirittura può liberare lo scarafaggio nero e ora è molto complicato il bianco vincere. Quindi, formica qui dentro, prossimo turno coccinella qui. Vi aspetto a Modena Play domenica. Ciao!